E' stato prontamente rimosso lo striscione xenofobo che questa mattina è comparso sulla SS80 nei pressi del comune di Pizzoli. La questione ai migranti comunque nel popoloso comune aquilano esiste. Molti sono i richiedenti asilo e già una cinquantina sono arrivati e altrettanti ne arriveranno, come predisposto dalla prefettura, che ha fissato un tetto massimo di 700 migranti per l'intera provincia aquilana. Il comune di Pizzoli ha presentato un progetto al Ministero dell'Interno per fornire l'accoglienza di secondo livello, ma la Roma ancora non è arrivata alcuna risposta. Su questa questione che riguarda i richiedenti asilo ci stiamo lavorando ormai quasi da un anno. Abbiamo informato l'agenda, abbiamo fatto tutte le azioni amministrative che era possibile fare per gestire il migliore modo di questo problema, tra cui anche la presentazione di un progetto Sprar al Ministero. Dopodiché abbiamo incontrato il prefetto e con il prefetto abbiamo trovato una sorta di, tra virgolette, accordo, nel senso che a Pizzoli gli immigrati sicuramente verranno, così come è definito da quel bando che la prefettura ha espletato, però è chiaro che prima di mandarli qui e quindi arrivare al regime con i 106 che ci sono destinati, cercheranno in qualche modo anche di mandarli prima negli altri comuni dove magari ce ne sono di meno. E questa iniziativa da parte di Casa Pound la trovo assolutamente fuori luogo e fuori posto, perché loro non ne fanno una questione xenofoba e non ci interessa a noi, perché Pizzoli è un comune accogliente ma che si sa difendere da solo quando è necessario rispetto a questi problemi. È chiaro che pure per noi 106 immigrati a Pizzoli su un totale di 700 in tutta la provincia sono troppi e questo lo abbiamo detto chiaramente ma nei modi e nei luoghi opportuni, quindi non è assolutamente necessario che si facciano queste uscite, dopodiché io ho già dato mandato agli operai di rimuovere lo striscione, perché è ovvio che non vogliamo avere nulla a che fare con questa gente.